Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Allora, come vedete già dal titolo, oggi parleremo di Dequalizer 3. Questo terzo capitolo di questa improbabile trilogia che alla fine si porta a casa, si chiude questo ciclo, diciamo, si porta a casa un terzo capitolo, tanto per chiudere, diciamo, questa storia vendicativa, diciamo, ma neanche tanto, di Rob McCall, interpretato da Denzel Washington. Come sempre, qualche piccola comunicazione. Intanto vi ringrazio, come sempre, per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, perché dalle analytics noto che molte persone che vengono qui e guardano i video è gente non iscritta al canale. Dato che, come sapete, io qui tratto soltanto cinema, serie tv, videogiochi, quando riuscirò a fare questo accordo con la piattaforma Viola, insomma, come ho già detto, porterò poi dei contenuti anche qui. Potete iscrivervi tranquillamente e, come sempre, vi ringrazio anche per ogni singolo mi piace che lasciate. È l'unica cosa che vi chiedo ogni tanto di lasciare i video, ma semplicemente perché è l'unica arma che abbiamo nei nostri confronti per sconfiggere questo algoritmo e per far un attimo tornare in vita a questo canale. Da parte mia servono dei contenuti, chiaramente, ma da parte vostra, se vi fa piacere, a me farebbe tantissimo piacere e vi ringrazierò sempre di lasciare un like in modo che posso continuare a fare qui questo tipo di attività e questo tipo di coperture che anche per voi, insomma, in un modo o nell'altro, vi do delle considerazioni generali su qualcosa. In questo caso, ecco, questo video esce adesso in questo orario un po' strano di 29 agosto alle 15 perché è scaduto l'embargo su The Equalizer 3 e ora ve ne posso parlare. Allora, torniamo appunto, poi come sempre vi ricordo, giù in box informazioni ci sono tutti i miei link per i social. Allora, inizio dandovi un piccolo aneddoto molto carino. Quando sono andato alla proiezione stampa del film, io non avevo praticamente visto niente di The Equalizer 3, neanche un trailer, neanche un'immagine, niente. Ogni tanto mi capitava qualcosa, ma la schippavo. Ma non perché non mi interessasse o perché sapevo che poi, nel momento in cui lo sarei andato a vedere, devo essere sincero, non avevo molto interesse, ecco. Pur avendoli visti tutti e tre i film in proiezione stampa, sono quelle cose che vanno un po' per osmosi. Cioè, più o meno sai, anche quando ho dato il mio ok all'invito stampa che sarei stato presente, sai più o meno, arrivi al terzo film di questo franchise, che chiude il tutto, quindi già sai più o meno di che cosa vai, cioè, so di che morte vado a morire guardando questo film. Dunque, alla fine mi sono lasciato proprio coccolare dalle immagini, senza vedere nulla. Quando poi sono arrivato in sala, un collega mi fa, si parlava di più o del meno, mi fa, oh, allora qui è Denzel Washington contro la mafia, contro la camorra. Io dico, che cacchio dici? Ma qual è questo film? È tutto ambientato in Italia. Io rimango stupito, perché abbiamo avuto tanta pubblicità, no? Degli Mission Impossible, The Reckoning Part 1, girata a Roma, girata a Venezia, e di questo The Equalizer 3, che effettivamente è girato tutto tra la Sicilia e Napoli, nessuna notizia. Io non mi sono trovato in mezzo a delle notizie riguardo questa cosa. E l'ho trovato un po' assurdo. Vabbè, il film com'è? Allora, devo essere sincero, i primi due erano anche molto buoni, molto buoni come film. Questo terzo io non ho ancora ben capito se mi sia piaciuto o meno. Cioè, è un po' una chiusura, un po'... in vacanza, diciamo, proprio per dire, beh, facciamo questo film e vediamo quello che riusciamo a fare. Denzel Washington è sempre perfetto in questo tipo di film, in questo tipo di ruoli, specialmente questo ruolo va benissimo. E dunque tutto che inizia, che lui spacca, uccide tutti i mafiosi in Sicilia, poi ferito, viene recuperato a Napoli, e lì, queste cittadine un po' da costiera, malfitana possiamo dire, lì viene cresciuto, cresciuto no, scusatemi, guarisce, e comincia a conoscere, scusatemi, le persone di questa cittadina e semplicemente è Denzel Washington, cioè Rob McCall che si innamora usi e costumi italiani e quindi va al bar, chiede un cappuccino, no, chiede un tè e uno gli arriva e una tipa gli porta un cappuccino e gli dice, no, i tè sono gli anziani. Cioè, succedono delle cose un po' assurde in questo film, però ti lasci un po' coccolare, perché la cosa bella di questo film l'incipit è molto semplice, arriva da questo punto, poi lì c'è la mafia, c'è la camorra, quel che sia, e questi criminali, questi mafiosi vogliono prendersi tutta la città per trasformarla in una gigantesca Las Vegas italiana, possiamo dire. Dunque è lui che assieme a un agente della DIA, mi sembra della DIA, mi sembra di sì, Dakota Fanning, che viene in Italia per indagare, però lui fa il lavoro sporco, possiamo dire. Intanto cercano di rovesciare questo impero criminale, che in realtà poi si appoggia ad altre cose, altre organizzazioni criminali in Europa. E tutto avviene appunto in questa cittadina, come è il solito punto, piano piano lui arriva, fa fuori tutti, libera tutti e potrà vivere, perché ormai lui è in zona pensione, lui dice, qui mi piace, però voi mi state rompendo le palle, e quindi anche un po' le motivazioni sono abbastanza bislacche. Però anche ripenso per esempio al primo, The Equalizer, che fa tutto in nome di quella povera ragazza che è costretta a prostituirsi e però vorrebbe una vita migliore, dunque lui la aiuta in questo senso. C'è quindi questa continuità un po' di angelo vendicativo per salvare i più deboli. Certo, il motivo per cui fa tutta questa roba è perché lui si trova in Sicilia, un po' una stupidaggine, si scoprirà a fine del film, ma vabbè, in quel momento diciamo, dici ok, è un film che dura un'ora e cinquanta, più o meno, così è il suo minutaggio. E io sono sincero, non è un film brutto, e ripeto, è un film da pensione. Cioè è un film che cerca di rendere epico un contesto italiano formato da polizia, da carabinieri. C'è un personaggio che fa il carabiniere e anche un po' come vengono rappresentate le forze d'assalto di polizia o di carabinieri. Insomma, è strano vederlo da un italiano perché non riesce ad avere, non dico un approccio neutrale, complessivamente è un prodotto sufficiente, è divertente, hai un po' questa sensazione guardando anche alcune scene nel finale che non è proprio una roba ultra ricercata, cioè si vede un po' di pigrizia in questo lavoro, un po' di esplosioni in computer grafica, per il resto è un po' il classico film alla Dequalizer, è più vicino al primo che al secondo. Il secondo invece era, non lo ricordo bene il secondo, però mi ricordo che aveva uno scontro finale molto interessante, se non sbaglio al secondo c'era Pedro Pascal, non mi ricordo bene, mi sembra di sì. Questo terzo invece l'ho visto un po' più identico al primo, molto più piccolino, molto più puerile, povero di contenuti, e poi ripeto, ci sono queste cose che fanno morire dal ridere, molto proprio italiane, così, oppure di come, ripeto, l'ho già detto prima, lui si siede, chiede un tè e gli portano il cappuccino, poi nelle scene dopo gli portano il tè, cioè alcune cose non si spiegano, oppure una cosa terribile, che lui si invaghì, cioè c'è una tipa, una cameriera che si invaghisce, una signora, insomma, si invaghisce di Danza Washington, e dunque gli dice, vieni, ah, poi lui, si fa chiamare Roberto, poi guardando il trailer, io ho detto, no, ora che torno a casa devo vedere il trailer, il trailer dà un po' la sensazione che è quella del film, però si prende sempre sul serio, e non diventa mai stupido, quindi questo devo dare atto a questa cosa al film, cioè ha sempre un po' questo tono serioso, però dato che si parla tanto in italiano, gli attori non recitano in inglese, cioè gli attori italiani non recitano in inglese, recitano in italiano, e dunque sentirlo in italiano è anche abbastanza carino, perché tu hai Pannofino, che doppia Danza Washington, e poi tutti gli altri attori che parlano, sia in dialetto napoletano, non lo so, è una soluzione che potrebbe piacere molto di più a noi che nel resto del mondo, poi sono curioso di vedere come andrà questo film, ma probabilmente farà il suo, perché come sono andati bene i precedenti due, andrà bene anche questo, anche se ha degli aspetti narrativi, estetici, ma anche come struttura, come produzione, si sente che è estremamente diverso, e dicevo no, un'altra bellissima cosa che succede, dopo quella del tè e del cappuccino, è che si invaghisce appunto con una signora di Danza Washington, e gli dice, allora stasera vieni, che ti piace mangiare? Lui dice un'americanata, tipo questo pollo col chili, lei gli fa, no no, ti porto io a mangiare i veri sapori italiani, e lo porta a mangiare un kebab, ora, io, a me il kebab neanche piace, ma santa miseria, il kebab italiano, e in quel momento, in tre secondi successivi, c'è uno che porge alla coppia un piatto di polpo, stanno in una città costiera a Napoli, e lei fa, no 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 no, mangiamo il kebab, cioè cavolo, ma se tu dici, ti porta a mangiare qualcosa, tipico di qui, il nome della cittadina, mi ricordo, forse è anche inventata, non è vera, non lo so, il nome di questa cittadina, che comunque, si ripete, è un po' classica città, su costa, su costa, insomma, sembra più quasi una costiera amalfitana, più che qualche città, non lo so, o magari potrei sbagliarmi, la città esiste davvero, non mi sono informato, e vanno a mangiare il kebab, e uno gli dà un polpo, che magari, in quel contesto, stai in un porto, a quattro passi dopo c'è il mare, stai sulla sabbia, che ti danno un polpo, no, no, mangiamo kebab, insomma, si riempie di queste cose, che io non so se sono volute, perché, dato che c'è una grossa produzione, cioè, sono stati messi in moto, tantissimi, tantissima manovalanza italiana, non c'è stato nessuno, un qualche, consulente, nel far queste cose, per, per dire, che magari era meglio dare il polpo, piuttosto che il kebab, vabbè, lasciamo perdere, ma, una cosa che non ho proprio ben capito, di questo film, e che forse l'ho persa io, è che a una certa, si fa un discorso, e l'ho già detto all'inizio, che entrano in gioco anche diverse criminali, organizzazioni criminali europee, e fanno un discorso a 360 gradi, come se quasi tutta l'Italia fosse in scacco, fosse sotto scacco di questa criminalità, a un certo punto mettono le bombe a Roma, c'è il telegiornale che fanno vedere, che Roma Termini esplode, non c'è più Roma Termini, in questo mondo di equalizer, mettono altre bombe, e poi è bellissimo, fai vedere la prima scena di Roma, fai vedere l'altare della patria, e dietro il fumo, è la classica cartolina romana, da romano, poi non posso che ridere e confermare, e improvvisamente mettono le bombe a Roma, e poi tutto si sposta, e tutto, cioè, è sempre ambientato lì a Napoli, non lo so, non ho capito bene cosa c'entra, forse ho fatto un'associazione molto semplice, l'idea di Roma, la capitale d'Italia, il potere, mettere appunto sotto scacco, mettere proprio, fare una minaccia palese, al governo italiano, non lo so, a una certa mi son perso, cioè, secondo me, allora, se voi guardate il film, guardate il trailer, praticamente in metà trailer, ci sono scene che nel film non ci sono, il film secondo me è stato molto tagliato, e non sto scherzando, c'è roba che c'è nel trailer, nel film non c'è, io ho visto l'ultimo trailer, quindi quello classico, da due minuti e passa, che l'ho visto dopo aver visto il film, appunto, e tutte quelle scene non ci sono, è stato tagliato secondo me tantissimo, questo film, ora non so se è per questioni di far vedere, ecco, secondo me quella cosa di Roma, lì è stato, c'è stato un taglio drastico, perché improvvisamente mettono le bombe a Roma, ma non si capisce il contesto, e non lo so, alcune storyline poi vengono buttate fuori, così non si sa più nulla, insomma, The Equalizer 3, com'è? È un buon film, è un buon film da sabato sera, niente di più, manca un po' comunque sia qualcosa, si sente, forse il taglio al montaggio, che si vede, si percepisce che c'è stato, non ha aiutato, oppure dovevano salvarsi in corner, da determinate cose, non lo so, rimane un po' una strana sensazione, di questo film, non che sia brutto, assolutamente, non sto dicendo che sia brutto, ripeto, è un film mediamente sufficiente, a cui non riesca a dare di più, però estremamente valido, che può funzionare, ripeto, per un sabato sera divertente, o anche un sabato pomeriggio, non lo so, insomma, è a mio avviso forse il più debole, tra tutti e tre, i film, e mi dà proprio la sensazione, di quel film, fatto proprio un po' per racimolare, un po' gli ultimi soldi, chiudere quello che devi chiudere, e magari in Italia, se erano un po' di riaperture, fronte Covid, non lo so, anche perché di questo film, che nessuno ne ha, io almeno non ne ho seguito niente, riguardo la produzione, neanche le fasi di shooting, quindi io sono rimasto basito, quando ho scoperto, che è tutto ambientato in Italia, ma davvero, non in studio, ci sono alcune scene, in piazza Navona, piazza di Spagna, scusatemi, di Mission Impossible, che sono fatte in studio, cioè non sono girate lì, anche perché distruggono, mezza scalinata, non penso che, che si poteva fare, ecco, quindi, detto, magari a questo Napoli, è Napoli per alcune cose, no, invece è proprio tutto così, Roma, Sicilia, Napoli, e niente ragazzi, io chiudo qui, comunque sia, ve lo consiglio, si può vedere, non è una roba brutta, ecco, diciamo, si può vedere, se avete visto gli altri, è sulla stessa linea, si sente che è un pochino più debole, su alcuni fronti, ma, globalmente si lascia ben vedere, e dunque nulla ragazzi, io vi saluto qua, vi ringrazio per aver visto questo video, come sempre, fatemi sapere sotto nei commenti, se lo attendete, o se avete visto il film, se vi piace o meno, e, lasciate un like al video, come sempre, questo vi ringrazio da morire, perché può essere estremamente utile per me, e la crescita del canale, e noi, appunto, ci vediamo ad un, ad un prossimo video, ciao a tutti.